Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, «Ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli iscrivi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per metodo del profeta «E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella. E li inviò a Betlemme dicendo «Andate e informatevi accuratamente sul bambino. E quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria e sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Mi invito a rimanere in piedi, scusate. Ma oggi è un giorno bello, importante, e la Chiesa ha un annuncio da farci. C'è la Pasqua. Questa festa lega direttamente alla Pasqua, alla risurrezione, alla luce. E allora ascoltiamo l'annuncio proprio del centro della vita cristiana, che è appunto la Pasqua del Signore risorto. Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata, e sempre si manifesterà in mezzo a noi, fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore, crucifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il 20 aprile. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento, nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, le ceneri, inizio della Quaresima, il 5 marzo, l'ascensione del Signore, il primo giugno, la Pentecoste, l'otto giugno, la prima domenica di Avvento, il 30 novembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi, e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla Terra proclama la Pasqua del Suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. E' veramente importante allora questa festa, è bella, è solenne, anche se purtroppo, come tutte le cose importanti, è pericolosa. E allora si svuota dal di dentro, lo si fa col Natale ormai, con una fiaba. Anche questa festa, pensate che da Epifania è diventata Befana, questa parola sapete, svuotata dal di dentro. E allora è quella vecchierella che porta i doni. Ma Epifania vuol dire invece qualche cosa di grande, vuol dire un Dio che non si tiene per sé, e neanche per un piccolo gruppo, è il Dio di tutti. C'ha un amore grande, questo Dio che raggiunge l'universo. Ve lo dico in un altro modo. Perché non è solamente un Dio che vuole arrivare fino all'ultimo angolino della Terra. Non c'è peccatore che non possa godere dell'amore di Dio. Questa è la festa di quest'oggi. Chi è il più peccatore tra di noi sappia che anche lui è toccato da questo amore di Dio. Perché siamo tutti invitati a trovare la luce, la salvezza. E Dio prima ancora che noi lo cerchiamo ci ha già trovati, ci ha già presi per mani, si incontra, tutti. non c'è nessuno più o meno privilegiato o più o meno no, tutti quanti riempiti da questo Dio immenso. Ed ecco allora la pagina scritta da San Matteo e noi la leggiamo come una fiaba, no, questi magi che vengono da distante qua. Ma immaginate quando è stata scritta ha messo in crisi tutta la comunità. Matteo che cosa scrivi? sei pazzo? Noi li abbiamo addirittura come vi dicevo, no, tradotti in modo così. Matteo ha scritto non magi, ha scritto maghi. Sono dei maghi questi. Per dire proprio gente pagana e pagana vuol dire senza Dio e ancora di più voleva proprio rincalare la dose. Gente proprio immersa nella magia. Nel primo catechismo della Chiesa che si chiama Didachè ci sono descritti tre peccati gravissimi. Il primo è rubare, il terzo è aborto, abortire e in mezzo sapete che cosa ci sta? La magia. Quindi immaginatevi quando San Matteo ha scritto questa pagina qua gli hanno detto quale l'endaglia di matto? Ma come? Questi maghi che vengono e incontrano. Eh sì e Matteo sapeva che cosa diceva? Diceva proprio un amore di Dio talmente sconfinato da avere accesso da tutte le parti potevano venire e incontrarlo. Dopo noi ripeto gli abbiamo addirittura resi magi perché insomma gli abbiamo messo una corona in testa no gli abbiamo sono diventati quei saggi no 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 niente di tutto questo sono proprio coloro che indicano i più lontani i più diseredati i più che sono chiamati a trovare Cristo perché sono già stati trovati da Cristo bellissima allora questa festa allora immaginatevi gente che segue che cosa? una stella ma che cos'è la stella? è un segno sono genti che si sono stati indirizzare da alcuni segni ma quanti segni Dio ha spasso nella nostra vita? o anche allora quando nasceva un bambino dicevano è nato sotto una buona stella lo diciamo anche noi no la buona stella vuol dire tanti segni tante indicazioni basta saperle leggere ci sono tante indicazioni che ti dicono Dio è là vai solo che purtroppo noi non sappiamo leggerle pensate che Gerusalemme aveva un segno grandissimo si chiamava Bibbia ma non sono stati capaci di leggere la Bibbia questo mi fa pensare sapete io che la conosco noi che la conosciamo siamo nati in un paese cristiano cattolico fin in fondo siamo attenti però questo non è garanzia di incontro con Dio perché può essere che tanti altri popoli che hanno segni meno chiari possano raggiungere prima di me di te questo Dio bisogna saperli leggere questi segni tanto è vero che il segno quello lì no si ferma prima di Gerusalemme perché hanno paura la Gerusalemme e chi è che ha paura? Erode ma anche tutta Gerusalemme sono turbati Erode perché ha paura? perché ha il potere in mano no è insomma è un re illegittimo pensate che ha ucciso tre figli suoi tre per avere il trono quindi immaginatevi quando gli dicono guarda che è nato il re dei giudei adesso ha paura e quindi si predispone ancora ad uccidere ma anche tutta Gerusalemme ha paura perché si pensavano possessori di Dio ma cosa viene a fare questo qua? San Matteo non farà non farà mai apparire Gesù a Gerusalemme proprio perché Gerusalemme si è chiusa alla luce e quindi la grande luce che sarà alla risurrezione non toccherà mai Gerusalemme indicativo anche questo e appena usciti da Gerusalemme i maghi di nuovo vedono la stella e quanto Gerusalemme era rimasta turbata paurosa invece loro la gioia la gioia ma ce l'abbiamo noi la gioia di essere cristiani delle volte che modichimusi che fanno pressione eh essere cristiani ma vi immaginate questi maghi che indicano veramente la voglia di Dio che c'è intorno a noi che noi abbiamo perso la gioia di un Dio che ci prende per mano che ci chiama che ci incontra e tanto è vero che seguono ancora questo segno che indica è chiaro dice lì che la stella si ferma in un luogo avete mai visto voi una stella che si ferma su un luogo allora vuol dire che c'è qualche cosa d'altro dietro vuol dire che ci sono delle indicazioni che mi portano a Dio chiaramente basta ripeto saperle leggere e fanno quei maghi le tre cose che siamo invitati a fare tutti quanti noi vedono e poi si inginocchiano e poi adorano vedono è chiaro non è vedere con gli occhi questi noi possiamo vedere con altri occhi con gli occhi della nostra fede e riconoscere in quel bambino il nostro Dio tanto che si inginocchiano quanti di noi si inginocchiano davanti a tanti idoli a tante divinità magari l'abbiamo fatto anche in queste feste natalizie no? quante divinità ci stiamo creando e adorano è lui il nostro Dio il vero unico Dio e gli aprono anche i doni bellissimi i tre doni che gli aprono oro incenso e mirra ma che cosa sono questi tre doni? provate a pensare l'oro che cosa sarà l'oro? è il nostro re c'ha un regno l'oro è del re ma non è il regno che pensavano quelli là di Israele di avere pensavano di essere loro loro i possessori del regno di Dio il regno di Israele no questo bambino che è nato è colui che ci porta un regno nuovo è un regno di pace di amore di giustizia è questo il regno a cui siamo tutti invitati a partecipare un regno di riconciliazione di perdono di misericordia bellissimo questo regno di Dio e poi l'incenso pensate che in Israele pensavano di essere loro unicamente loro che potevano elevare l'incenso la preghiera no l'incenso lo preghiamo anche noi qualche volta no ma è proprio il sacerdote che offre che prega a nome di tutta la comunità no non è più solamente un gruppo quel gruppo là tutti siamo sacerdoti tutti possiamo pregare perché Dio ci parla e noi gli parliamo è questo siamo invitati a entrare in contatto con questo bambino che è nato e la mirra la mirra era l'unguento che le spose mettevano il giorno delle nozze un unguento particolare profumato proprio che diceva adesso ti sposo il popolo di Israele pensava di essere lui l'unico che sposava Dio Dio ci ha sposati siamo noi la sposa prediletta di Dio ma che adesso tutti i popoli Dio ha sposato vuol bene ama tutta l'umanità altro che un piccolo gruppo capite che questi segni sono indicativi di una universalità che Dio ha per tutta quanta l'umanità e come termina il brano dice che alla fine se ne tornano a casa per altre strade belli questi perché nessuno pensi di possedere Dio adesso l'ho chiuso ma che Dio non lo puoi comprendere carissimo Dio va sempre al di là è un mistero ma è un mistero nel quale puoi immergersi lasciati raggiungere da questo mistero e poi cercalo ancora e poi cercalo ancora perché lui continua a trovarti siamo dei cercatori di Dio vi auguro allora di cercarlo sempre questo Dio di lasciarvi incontrare anche nelle situazioni più peccaminose questo Dio entra con la sua bontà e misericordia e cerchiamolo ancora perché lui ci raggiunge se noi vogliamo anche laddove c'è proprio la tenebra più oscura lui è la nostra luce buona festa allora di questa epifania cercatori di Dio perché Dio con il suo amore immenso e meraviglioso continua a trovarci buona epifania a tutti e a tutte grazie a tutti